Vincenzo Tutti noi siamo Vincenzo, questa morte ci addolora, ci umilia, ci fa perdere la gioia di vivere. Questo ci hanno legato le persone che hanno ucciso Vincenzo, la dignità e la gioia di essere uomini. Ecco, allora la parola di Dio ci dice, ci dà alcuni suggerimenti. Prima lettura ci ha ricordato che a causa di uno è nella morte. E questo pensiero che ci dà la scrittura ci fa pensare innanzitutto a questi giovani, giovani cui non mancava niente. I giovani che hanno stati chiamati, messi al mondo, donati da Dio al mondo per creare vita, per creare gioia, che sono diventati assassini, massacratori, delbe umane. A pregare anche per loro e a chiedere al Signore che così, ecco il loro gesto, i loro emulatori, il loro gesto sia, dal loro gesto prendono le distanze tra tutti. Ho visto i manifesti, ecco quell'avviso di devolvere, di devolvere, ecco, offerte che ognuno di noi avrebbe voluto fare per i fiori, per altre cose, a questa associazione Amici di Carlotta. Questa associazione che si occupa dei bambini di strada, del Banco Avesci di Danca. Ecco, grazie, grazie che avete pensato a questo, grazie perché ci avete dato un segno, ecco, di che risorsa e di che resurrezione può essere, ecco, il credere e l'amare in un momento così triste come quello che è toccato a voi. Ecco, aprirsi, non chiudersi nel dolore, ma aprirsi ad un amore più grande. Tanti bambini di strada, di Danca, sorrideranno ancora, vivranno ancora per questo vostro gesto. Questo gesto che vi ha suggerito, ecco, la vita, i sentimenti e i valori per i quali il censo è vissuto. Grazie. 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 Grazie.